In attesa del giudizio della Corte di Cassazione è detenuto nel carcere di Voghera in provincia di Pavia. Uno dei coinvolti nell'inchiesta antimafia redivivi attraverso il legale di difesa, l'avvocato Carmelo Tuccio, ha però chiesto di lasciare la struttura penitenziaria Lombarda dove di recente si è registrato un caso di positività al covid. Anche secondo la difesa sarebbe necessario garantirgli una misura alternativa così da evitare il rischio di essere contagiato a sua volta. L'istanza avanzata dal legale in prima battuta è stata respinta. Adesso toccherà ai giudici del riesame valutarla nuovamente dato che il difensore del detenuto gelese ha fatto ricorso. Il coinvolto nell'inchiesta antimafia lo scorso anno venne arrestato in aula al momento della pronuncia della decisione dei giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta che a differenza di quanto deciso in primo grado hanno invece riconosciuto l'associazione mafiosa aggravando le pene imposte a tutti gli imputati. Sono stati ritenuti affiliati ad un gruppo mafioso in grado di imporre una sorta di monopolio nella gestione della raccolta della plastica in alcune aree rurali della città anche attraverso la disponibilità di armi.